Un sì per cambiare l'Italia, per renderla più veloce e più giusta. La deputata del PD Laura Venitelli, che nelle ultime settimane ha girato in lungo e largo il Molise per spiegare le ragioni del sì al referendum del 4 dicembre, ha voluto lanciare un ultimo appello al voto, spiegando alcune parti della riforma e facendo chiarezza su quelle che ha definito falsità che arrivano dal fronte del no. Cavallo di battaglia è l'abolizione del Senato con i suoi 315 senatori, che vuol dire non solo un taglionetto dei costi, ma anche uno snellimento delle istituzioni con un'accelerata alle leggi che invece ora devono passare per le due camere. Alcuni esempi concreti, il patto per il Matese, recentemente firmato ad esempio, non è ancora legge perché deve andare alla Camera e anche il reato di diffamazione sul web, sono tre anni che se ne discute e intanto le vittime non possono chiedere la rimozione dei contenuti diffamatori all'autorità giudiziaria. All'interno della riforma anche l'obbligo di portare al vaglio della Corte Costituzionale qualsiasi proposta di legge elettorale, cosa che oggi non avviene che per esempio ha fatto dichiarare incostituzionale solo dopo 14 anni il Porcellum. I politici poi che ad esempio portano gli enti al dissesto finanziario non si potranno più candidare. Con questa riforma noi abbiamo veramente la possibilità di aggiornare quelli che sono gli organi dello Stato. La Costituzione nella parte dei diritti fondamentali non viene assolutamente toccata, anzi viene rafforzata. L'aggiornamento riguarda la parte appunto degli organi, quindi il Parlamento, quindi i rapporti tra lo Stato e le regioni, i consiglieri regionali, il rapporto appunto tra Stato e le regioni che ad oggi ha provocato non soltanto dopo la riforma che è stata voluta da D'Alema una spesa inappropriata in 15 anni di 100 miliardi di euro ma e soprattutto un contenzioso tra Stato e regioni. Oggi la Corte Costituzionale ha alla propria attenzione più di 8 mila cause tra Stato e regioni. Una riforma che consente di superare Camera e Senato con le stesse competenze. Io dico spesso Camera e Senato che sono due fotocopie, come se in un comune ci fossero due consigli comunali e due giunte. Chi oggi è per il no vuole lasciare non solo le cose così ma vuole fare un piacere alla casta. Tanti senatori hanno votato sì votando la soppressione del loro posto. Chi vota no è chiaro che vuole lasciare più posti alla politica così come vuole lasciare più soldi alla politica.